Quella ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale, rieccoci qui di nuovo con Castle Flipper Riprendiamo con il nostro zio Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2 Allora ragazzi, se vi ricordate bene nel primo episodio abbiamo iniziato quantomeno un piccolo tutorial Una brevissima casa, ed in effetti quest'oggi dobbiamo costruire una casa per noi auci Dunque, vediamo un attimino, infatti, costruisci una casa, va bene, va bene Cosa fattibile che ci sta Innanzitutto, vediamo, volevo vedere un attimino i controlli Perché non mi piace l'inventario sulla lettera I Ci sta, hotbar, eccolo qua, inventario Il tasto che si è già segnato, per favore, vabbè, aspetta la R Apri elenco dei clienti, possiamo fare una E? No, vabbè, la E già ce l'abbiamo Una F Va bene, tava A posto, riprendi, ottimo Ok, ok, almeno così ragazzi, c'ho un attimino un po' di tasti sotto controllo Senza che esco pazzo Io direi di costruire una casa Le fondazioni, io ragazzi direi di farlo qui, ad esempio Edifici, case 25,50 Oddio, costano un po' Ah, guarda qua che figata No, 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 vabbè ragazzi, abbiamo un bel po' di roba Eh, io direi ragazzi di non farla tanto grande Eh, di non farla tanto grande Eh, ruota Perfetto, sta pure iniziando a piovere Io direi di mettere, ad esempio Una Eh, fondamenta qui Mettiamo una Due Tre E quattro Ok Eh, dopo di che vediamo un po' Mettiamo Una finestra qui Una finestra qui Qui E qui E stiamo a posto Sperando che ragazzi i soldi ci bastano Eh Eh, naturalmente porta qui E muro Muro E muro E naturalmente ragazzi ci serve un tetto Un tetto sulla testa Che non è mai tanto male Lo facciamo spiovente da quel lato Così E così Abbiamo un po' di legname Sì, un po' di legname ne abbiamo Vediamo un attimino com'è che funziona Ecco qui Ah, legno vecchio In tonaco fine In tonaco Roccia immacolata Roccia liscia Roccia Eh, legno No, no, no Facciamo legno normalissimo ragazzi È legno normalissimo Fatemi vedere una cosa però Il tetto è giusto? Sì Il tetto è giusto A posto Oh Almeno così ragazzi abbiamo anche noi un tetto sulla testa Vediamo un attimino Varie Ah, hai capito Possiamo anche decorarle così In questo modo Va bene Vediamo un attimino delle porte Che vabbè Una porta fatta in metallo Va più che bene E una finestra fatta in metallo Tanto comunque sia ragazzi Un po' di soldi li facciamo Man mano che Naturalmente andiamo avanti con il gioco Vediamo un attimino anche di mettere Della cucina Dei tavoli Una camera da letto Vabbè Signori Per il momento Lasciamo stare così com'è A posto Ottimo Apri Ammazza Mi sa che ci vuole un po' di olio Un po' d'olio però Mi sa che ci vuole Ah Ma sto cavalli Oh Santo iddio Sto cavallo è ritornato Maledizione No aspetta Mi sa che devo lasciare qui Andare qui E in via Ok Più 168 di legname Però pietra non ne abbiamo Voglio provare una cosa Se io ad esempio Vado ad abbattere questa Lo posso fare? No Questa qui no Questa qui nemmeno Alberi invece No Non li posso tirar giù Che peccato Che peccato Vabbè comunque Officina Questa è un'officina Usala per Cambiare il nome Della tua città Creare il tuo standardo O sbloccare Nuovi mobili Hai capito? No vabbè ragazzi Oppela Piano Salve Oh ciao caro Rinominare il tuo regno No 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 Aspetta Aspetta Eh no niente ragazzi Volevo mettere da Zio Arthur Morgan Soltanto che purtroppo Non ci va Allora qui possiamo Cambiare il nome Della nostra Cittadina Mentre qui invece Ah avete capito Possiamo Bloccare anche Questa roba Dei letti Questo oggetto Per mille Oddio Ci sta Eh ci sta Ma lo dobbiamo anche Eh vabbè Te piacerebbe Guarda tu Guarda qua Eh Questo va qua sotto Questo va qui Questo va qui Signori sto andando a caso Eh vabbè A parte Abbiamo sbloccato Un nuovo mobile Perfetto E che cos'è Che mi ha sbloccato Scusi Forse ad esempio Un letto con Ah Ecco qui Il materasso Questi qua Con la corona Credo che dovrebbero essere Per l'appunto Per I re Non vorrei dire Una gran cacciara Però Secondo me A dire il vero Per me Potrebbe essere Anche quello Vediamo un attimino Le bandiere Simbolo Ma possiamo Cambia bandiera No aspetta Ah ok Eccoli qua I simboli Eh Vediamo un attimino Facciamo una cosa Una via di mezzo Eh Facciamo un Cagnolino Mi sembra quasi una cosa Da bambini Però Lo facciamo Bianco Con Uno sfondo Verdino Più o meno Verde scuro Dai Eh La cornice La cornice Me la fai con Dei piccoli Fiorillini Madonna Mi ammazza Che cagliara No vabbè Dai Così ci sta Con un bianco Colore dello sfondo Bianco O nero No 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 Facciamolo nero Dai cambia Oh guarda qui Che bellissimo Standardo Ok A posto Damos Ma C'è permesso Scusi Leggi Signor si capitano No aspetta E Tempo di pulizie Eh ma scusate Un proprio pezzo di terra Costruisci una casa Fondazioni letto Eccetera eccetera Questo qui l'abbiamo fatto Ok No aspetta Punto abilità Negoziatore I prezzi di tutti gli articoli Sono ridotti del 10% Dai no Puoi portare un oggetto aggiuntivo Ottima cosa Ottima cosa Bene così Bene così Eh vediamo Ma io scusate Ma io la mia casa l'ho fatta No Ora Che cos'è che dovrei fare Ah aspetta Mi sono dimenticato Di mettermi le finestre Pensa tu Eh Finestre Come detto Sì mettiamo queste qui E tacchete E tacchete E tacchete pure qua A posto A posto Sì ragazzi Come detto Non ho capito perché Non va avanti O meglio Forse magari devo accettare io Dell'altro lavoro Vabbè comunque Vediamo un attimino va Leggi Vediamo Tempo di pulizie Questa vecchia casa Ha bisogno di una ristrutturata Pulisci muri e pavimenti Raccoglie la spazzatura Nei dintorni E occupati del giardino esterno Mancano anche alcuni mobili Al piano di sopra Ricompensa 3000 A posto Vai vai Accetta 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 perché noi signori Abbiamo bisogno di soldi Più soldi abbiamo Oddio santo E che è sta roba qua Vabbè Comunque Ah ecco qui la roccia Guarda qua Sì ragazzi Facciamo una cosa per volta Mi raccomando Facciamo una cosa per volta Prima mi vorrei fare Un attimino all'esterno Della Della casa Questa qui Me la posso portare No A quanto pare No Questa invece No niente Ok Questo Distruggi Tab ascia Oh no Aspetta Dai di ascia Tacchete Tacchete E tacchete A posto Vai così Recupera E recupera Dai di martellozzo A posto Questo qui invece Ascia Dobbiamo tagliare pure questo Ok Sì A quanto pare Sì Vediamo un attimino Vediamo un attimino Questo qui Ascia anche E anche A posto Va bene Vai così Vai così Esterno No esterno Non c'è niente Vai accetta Accetta A posto A posto Aspetta un attimo Vai qui Ah ok Recupera 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 E stiamo a posto Almeno Dalla parte esterna O meglio Sicuramente ci sarà Ancora da Buttare giù Qualcosina No Questo sì Qui che cos'è Che dovrei fare Scusi Biondo Non saprei Qui Penso niente Vabbè Comunque Ascia Ascia Anche qui Qui E qui Niente Qui Niente Questo qui Non lo posso rompere No a quanto pare No va bene Comunque Passiamo all'interno Dai Ti può? Ti è permesso? Guarda qua Ok Aspetta che adesso Iniziano a desponarmi le Guarda qua Che schifo Ma prendiamo anche Gli schifi A mano A mano Vabbè Vabbè Comunque ragazzi Sono sempre Sempre roba fidata E Una roba schifosa Dal caso Ok A posto Vediamo Prendi questo E portalo sul carrettino Qui A posto Almeno così ragazzi Man mano che andiamo avanti Puliamo il tutto Qui non c'è niente Andiamo Aspetta Sposta Guarda se vogliamo fare le cose proprio come locatelli Questa te la piazzo qui Questa te la piazzo qui E chi si è visto Si è visto Questo lo butti Questo anche Questo e questo anche Aspetta Guarda questi qua te li Poggio qui Magari fatti anche bene Ok A posto Sì questo qua magari lo possiamo mettere anche qui Dai Ci sta voglio dire No È un tavolo Almeno Possono anche mangiare Un attimino meglio E questo è ok Ora Puliamo anche sto schifo qui Scusi Scusi A posto Così Dov'è che stanno più le macchie Allora ci sta sopra Qui non c'è più niente Va bene Questo qui ragazzi Me lo porto io di sotto Almeno così lo vado a caricare Prima che mi dimentico Ok Sperando che poi dopo alla fine Il Il cavallo qui Si perde un'altra volta Se no Stavolta si che lo ammazzo per davvero Questo qui lo lasci qua dove Ripulisci sto schifo qui Questo anche Allora abbiamo un vomitello qui Credo Vabbè Comunque Non so nemmeno che roba Sì vabbè Sicuramente sarà del terriccio Incrostato malissimo Come se non ci fossero domani Sì guarda Questo qui Lascialo qua sotto Dopo Vado E ripulisco il tutto Questo qui Lo posso pure lasciare qua Metti un letto Al piano di sopra Ma dove Qui E io qui Non ne vedo più piani Metti un armadio Al piano di sopra E rimuovi I vecchi tronchi Di alberi Me ne manca uno Vediamo un attimino Qui mi chiede Di mettere Un letto Guarda Gli metto questo qui S'arrangiano Ah è qui che lo devo No Forse è qui No aspetta Ah ok Allora Ah Allora questo qui È il materasso Ok No Non avevo capito Va bene Va bene Vediamo un attimo Magari gli posso mettere uno Che non costa tanto E vabbè 70 dollari 70 monete Scusate Guarda Te lo piazzo Qui A posto E ti piazzo Ad esempio Un materasso Oh Almeno così Riesce a dormire Anche meglio Armadio Uno abbastanza Scrauso Credo che Magari Forse Quando Ci sarà Credo magari Una cosa Con una stellina Credo che Ce lo dovrebbe Segnalare lui stesso Ora non lo so Ragazzi Com'è che funziona Se voi magari Avete giocato A Castle Flipper Mi raccomando Fatemi sapere voi Qua sotto qui Com'è che funziona Però Mi raccomando Senza spoilerare Credo che L'albero Dovrebbe essere Questo Mi lascia Eh si infatti A posto Togli questo Dammi questo No no Resto 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 un attimino Resto un attimino Perché Mi vorrei fare Un giro Un pochettino Meglio Magari forse Riesco a trovare Pure qualche chest Con Un po' Di oro Magari Se proprio Ci sta Dell'ora Lo prendiamo Ragazzi Eh Ma sicuramente Non c'è niente Secondo me Le Le cose Sono soltanto Qui Eh si infatti Non c'è niente Vabbè Anzi Aspetta Se magari Mi trova Lui Qualche cosa No Così Lui Non mi Trova Niente Vabbè Comunque Possiamo andare A casa Cavallino Mi raccomando A te Ritorna A casa Se no Te Spezzo Tutte e Quattro Le ginocchia Sto scherzando Ragazzi Mi raccomando Non mi Prendete Sul serio O meglio Non mi Prendete In parola Perché Sto Quanto meno Scherzando Mi raccomando A posto Mi sono salvato La partita E quando Mai Quando Sto cavallo Quando E che Ritorna Tra Cinque Minuti E vabbè Signori Io non So Più Che Pesci P Prendere Questo Cavallo Signore Si dice Che Lei Signore Sia Il Più Grande Restauratore Che Le Mi ha Lasciato In Eredità Una Piccola Isola Non è Molto E L'intero Posto Ha Sicuramente Visto I giorni Migliori Ma è Terribilmente Irrispettoso Rifiutare Le volontà Del Proprio Zio Così Ho Accettato Il Dono L'isola E Deserta E Non c'è Nient'altro Che Una Casa Fatiscente E Una Vecchia Nave Per Quanto Non Possa Importarmi Di Meno Della Casa La Nave Sembra Promettente Mi piacerebbe Navigare Lontano All'orizzonte Ma Considerando Il suo Stato Attuale L'unico Posto In cui Può Portarmi È Il Fondo Del Mare Addirittura Spero Che Possa Aiutarmi A Realizzare I miei Sogni Che Così Che Io Possa Aiutarla Ok A riempire Le Tasche Sette Mila Accetta Accetta Tutta Accetta Tutto Andiamo Andiamo Forse Dentro La Casa Ci potrebbe Essere Anche Qualcosina Non lo So Spazzato Eh Santidio Quanta Merda Che Ci sta Scusi Il cavallo Andiamo La Vede Parcheggiato E Quella La Nave Oh Santidio Ma Niente Cavallo Se va A piedi Oh Benissimo Ripara Butta Via Questo Distruggi Sicuramente Qui abbiamo Bisogno Di Qui invece No Niente Qui Distruggi Distruggi Sicuramente Distruggi Qui Niente E qui Niente Va bene Questo Niente Questo Niente Qua Niente Distruggi Distruggi E Ah ok Questo qui Si A posto Distruzione A posto Ora No vabbè Veramente ragazzi Dovado a mettere Veramente che non c'è il cavallo Scusi Cavallo Cavallino Scusi Aspetta Apri Guarda qua 500 dollaroni O meglio 500 crediti Vabbè Che siano crediti Dollari Euri Non si sa Comunque Ma Scusate Ma il cavallo Veramente Ando sta Ah Volete vedere che devo piazzare tutto sulla barchina Qui Scusi Vabbè Signori Io vado con la barchina Qui Non si sa mai Magari Però Qui Magari Fatelo un pochettino più larghe Se scale Non vorrei dire ma Qui Vene andata Vene cascata al fiume Proprio Come se non ci fosse un domani E signori Comunque Comunque Vediamo un attimino Tira mi lascia fuori Qui Niente Qui Qui niente Qua invece Niente Questo qui Niente Ok Credo che forse Nella parte Esterna Abbiamo Power Guarda qua Ammazza che Zozzeria Ripulisci 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 Aspetta A posto Si ci stanno anche un po' di No 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 Che fai Che vogliamo da fuoco a casa D'accordo che hai fatto Legno e pietra Però Non ci facciamo riconoscere Non siamo così Dei vandali Non siamo per niente Noi dei vandali Qui eh A posto Togli Qui Qui E qui A posto Per riparare Ah Aspetta Scusi Non vedo Oh cazzo Ma la me Ma pensa tu Ma Scusi Vabbè A posto Vai Inchiappetta un po' di chiudi Di qua Ok Dove andata a finisco Ah mannaggia La miseria Pensavo che la fosse buttata fuori Dalla finestra Così Come se non ci fosse un domani Vabbè ragazzi Io le casse Adesso le lascio qui Perché sicuramente Ci saranno molte più robe Da recuperare E strada facendo Però Io per il momento Ragazzi Madonna Guarda qua Ammazza e schifo Guarda io questa qui Quasi quasi Te la lascio qui A posto Questo Te lo piazzo qui Recupera 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 Guarda Qua le casse Come stanno A despona A posto Lascia qua Chiudi eh Ok Qua invece Niente Qua Niente Ok Qui No vabbè Aspetta 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 No 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 Forse magari è meglio qui A posto Vabbè Non fa niente Un pochettino al contrario Lascia fare Questo qua Guardate lo piazzo qui Ne stiamo a posto Posta No Non vorrei spostarlo Aspetta Ma io ancora adesso Ho notato che Quando fai una cosa Ti paga prima Sì infatti Allora non stavo Vedendo io male È proprio come Proprio giusta come cosa Vabbè Comunque Questo e questo Vanno bene Aspetta va Posta perché Ah no ok Metterò qui Qua Che cos'è Ah no Questa qua La porta di prima Ok ok Allora Vediamo un attimino Apri Sistema questa Ripara Vabbè però Perché la porti In colonias Ok Vai Smartelliamo qui A posto E a posto Ok Lasciala qui Questo qui Lo piazzi qua Più o meno Davanti alla porta Questo qui Lo lasci qui Questa qui È anche da Sistemare A posto Vai Sistema Perché me la porti Lì Ma non capisco E uno E due Aspetta Vai qui A posto Signori Qua siamo Un tutto fare Lascia fare Adesso Va bene tutto Ma Lasciate fare Va bene pure così Va bene pure così Qui Niente Giusto Posta Una chiave Perché una chiave A cosa mi serve Sta chiave Forse magari ci sarà Una zona segreta Aridagliela Non dobbiamo Bruciar casa Dobbiamo pulirla Volevo dire Sicuramente ci sarà Una zona segreta E chi lo sa Ripara le sedie Rimuovi macchie Quattro di dieci Sicuramente si estende Ancora un pochettino Più in su Vediamo 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 su Vediamo Oppela Piano Botta di lag Prendi Prendi Aspetta Vai così Abbiamo ancora Delle macchie Pulisci Pazzatura Vediamo un attimo Forse magari Sono fuori Ah non le possiamo mettere Non le possiamo portare Una sull'altra No A quanto pare No Vabbè comunque ragazzi Mi sa che mi devo fare il giro E andare Fuori Alla barchetta Da eh Vabbè Per il momento apri Vai di qui Vai di qui Prendi pure questa E stiamo a posto Vai qui Qui sotto qui Mi sa che non ho lasciato niente Giusto? Giusto Vai di qui Vai di qui Aspetta Scendi 3 E 4 Già sulla Sulla barchetta E 5 Fuori qua Giusto? Sì A posto Allora facciamo così ragazzi Ve le porto tutti quanti fuori qua Almeno così Man mano che escono No La devi mettere sopra Piano Mano mano che escono ragazzi Mi rendo conto che Abbiamo pulito Diamo meglio un'occhiata in giro Magari Ho lasciato io qualche cosa No Vabbè A parte il fatto di Dare La ripulita Alla nave Però qui Mi sa che ho pulito tutto Ripara La coperta Della nave Cattura Tutira Pure i ratti Acchi e spazzatura Forziere 1 di 4 Note 1 Evidentemente ci stanno anche queste cose Va bene Aspetta Aha Mille A posto Ci mancano ancora un paio di forzieri E una nota Sicuramente la nota sarà sulla barca? O sarà da queste parti? Non lo so Vabbè Comunque Ci lavoreremo E ci Ci lavoreremo Ora Fatemi D'anocchiata No A quanto pare no Vabbè Comunque Ora A prescindere Tutto ciò Ma ne posso prendere Più di una? No Più di una no E allora Sta cip Aspetta Piano 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 che si staffa pure notte Metti qui Piano che si staffa pure notte qua Ora non vorrei dire Ma qua secondo me Ce ne caschiamo al fiume O al mare Insomma Vedete un po' voi Fate un po' voi Meno male soltanto che a queste altezze Ragazzi Non Non muore Non prende cadute Non si fa male Non perde vita Rosse tencastri Tencastri Vabbè Comunque Sicuramente Gli altri due forzieri Saranno sulla nave E voglio dire una nave Sicuramente un po' di forzieri Ci staranno A posto E qui Ma questa qui Ah è pure roba da pulire Ah ok Vabbè No Non l'avevo capito Vabbè Comunque Però abbiamo più legno Che non Che non pietra Vabbè Sicuramente Usciranno delle altre cose con Della pietra Eccetera Eccetera Vabbè Lascia qui Sicuramente usciranno delle altre Cassettine Vediamo vediamo Salve Signor capitano C'è nessuno in casa? Scusi Oh santi Dio Pure i ratti Te pareva Eh Aspetta eh Raccogliere Oddio no Questi qua Ma pensa tu Pensa tu Allora ragazzi Facciamo una cosa per volta Avesse considerato che la nave È abbastanza gigante Io direi di iniziare Più o meno di qua Sì ragazzi Eccolo qui A posto Con altre mille Oh signori Stiamo a fare i mega soldoni Qua eh Stiamo a fare i mega soldoni Comunque Comunque Dicevo Ma siamo sicuri che poi dopo alla fine Sta nave Andrà in mare Non lo so Non lo so Pulisci questa Apri qui C'è nessuno? Scusi eh Ma fatemi capire Ma com'è che fanno a star seduti Così con una pendenza Pendenza Del genere Su sta barca Fate voi Sicuramente questa qui È del capitano eh Del capitano Sì vabbè Ciao capitano Tu Dov'hai? Che fai? Cosa tu Vabbè Comunque Questi vanno Uno Due E tre Ce ne mancano altri due Dov'è che gli ho vinto? Eccoli qua Scusi ma Suo nonno Le ha lasciato sta barca Ma Tu Sei capace Oddio Tu Sei capace a guidarci A guidarla Voglio dire A navigare Sei capace? Non vorrei dire ma Secondo me Sto tipo qua Ne è manco buono A A farsi due spaghetti Aglio e olio Aglio e olio Scusate Che aglio e olio Stanti dio Ah eccola qui la nota Piani del trabucco Lista Di cose da fare Stabilizzare l'albero Rafforzare il nodo Della corda Ridurre lo stress Assiale Ho capito niente Ma vabbè Comunque Comunque E qui Repolisci qua A posto E le macchie Sono sparite Me ne mancano Ancora un pochi Oh sante Divinità Videoludiche Signore qua Ci siamo fatti più soldi Su sta barca Che non su tutto Il resto del gioco Ora non vorrei dire Ma va bene lo stesso Ora Non stiamo qui A gigioneggiare Come se non ci fosse Un domani Ma Ci siamo capiti Chiudi questa Questa qui Se non vado errato Dov'è chi andava Sopra L'avevo visto Di sopra Sì è giusto Ok Allora qui Abbiamo fatto Ora Facciamo il ponte Qui sotto Ripulisci Ma posso sparare? Ma che Vabbè Comunque Ripulisci qua A posto Vediamo un attimino Aspetta 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 Di recuperare Altra sporcizia Qui già abbiamo visto Sì 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 Qua già abbiamo visto A posto Allora andiamo Un po' più in qua Recupera questi Uno qui E uno qui A posto Mi servono Ancora degli altri pezzi Per Sistemare sicuramente Da qua sotto E vedo Un po' di roba Qua sotto E ok Recupera questo E questo Uno E due Ripulisci Devo pure Acchiappare i ratti Pensa tu Ma come cavolo Vabbè Un po' alla volta Ragazzi Un po' alla volta Attaccate E attaccate Scusi A posto Li abbiamo recuperati I ratti Ah guarda Penso di sì No Cazzo le Ma perché questa cosa Che voi mi dovete dire Come cazzo ha fatto Quest'uomo A lasciarmi la La cosa la Non posso nemmeno Andare in acqua E niente ragazzi Niente Ho perso una Una cassetta Della frutta qua E vabbè Che voi devo dire Speriamo che non succeda più Vabbè Comunque Detto ciò Detto ciò Posso andare qui? No Vabbè Comunque Comunque Ehm Vediamo di andare di sopra Pulisci 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 Posto Un'altra cassa E' uscita E' ok Ehm Pulisci pure qui A posto Ehm Che faccio Ti accendo pure queste Ma guarda Io ti posso pure accendere queste No Non è vero Ho detto una stronzata Scusate E scusate Vabbè Comunque ragazzi Comunque Guarda Non ti baggare un'altra volta Perché sono Un'arrabbio Oh Dai ferma qui Ne è che due maronzoli Ehm Spazzatura Macchie Ah ok Manca soltanto Venite qui Venite qui Che muo Ammazzo io tutti Oh 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 Vieni qua Ma che sta da fare Giro giro tondo Ma vi pare il caso Ma scusi Ma scusi Comunque questa qui per adesso La lascio qui Uno e due E' a posto Ripulisci 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 Vai qui A posto Ehm Ragazzi Non le teniamo troppo sparse in giro Ste casse Perché sennò poi alla fine Non le vedo Dai un'altra mezza ripulita qua A posto Così Ehm Vai di qui Recupera 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 Metti uno qui E un altro No aspetta resta Macchie Abbiamo ancora una macchia da pulire Perché per il resto ragazzi abbiamo fatto tutto eh Ci siamo spippolati per bene questa barca Barra nave No 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 Resto 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 perché abbiamo da portare un po' di casse su Vai così Non te bugga un'altra volta Ok Oppela Do cazzo vai E dai Vai 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 Ah io com'è che me ne faccio andare Ah torna a casa Ma siamo sicuri che questo qui ragazzi mi riporta la roba a casa No perché E' un bel po' di roba da vendere E' un bel po' di roba ragazzi Io non lo so adesso Com'è che si faccia Però Oppela Se qualcuno di voi ragazzi Ha qualche piccola idea Magari mi potrebbe far sapere Qui sotto qui nei commenti Ehm Come faccio con La roba che si recupera Con la barca o col cavallo A posto Torna a casa Vediamo ragazzi Ma io non penso che questa roba qua Mi venga portata a casa però eh Devo vedere anche una mappa Se ci sta una mappa Riguardo alla barca Ehm Dov'è chi mi lascia la barca Perché non lo so Allora vediamo Una mappa ce l'abbiamo No non ce l'abbiamo una mappa Andiamo a vedere Lì vedo qualche cosa Ditemi che ci sta un piccolo Porticciolo Perché se no mo mi arrabbio Perché là ragazzi E' tanta tanta roba eh Aspetta Che roba è qua Oddio Ma qua possiamo venire a spaccare legna O spaccare pietre Ehm Sì 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 A quanto pare sì Mi sa di sì ragazzi Qua noi possiamo recuperare roba Aspetta 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 Ho detto una bella minchiata Mi sa che ho detto una minchiata Eh no dai Io mi sa Io mi ricordo che nelle versioni precedenti Questa cosa qui si poteva fare Recuperare legno E recuperare anche Fare meglio a tornare indietro Ma come ma mi scusi Ma io vengo qui in pace No perché Perché scusa Eh no E dai eh No ragazzi come hai detto Voglio trovare la barca Perché se no io non dormo Perché scusa devo far meglio a ritornare indietro Per quale motivo scusi Dica Io voglio trovare la mia barchetta Perché non è che noi ce ne siamo andati così a nuoto Eh voglio dire Ehm no ragazzi Niente barchetta Niente barchetta Ehm ma la roba La mia roba Dove sta Non ci credo Non ci credo Cioè abbiamo perso la roba Tutta Tutto quel ben di dio Voglio dire no Avevamo tutto quel ben di dio E adesso è sparito così In men che non si dica Ah vabbè Che vi devo dire ragazzi Non lo so nemmeno io Sì 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 Faccio meglio a tornare indietro Vabbè ragazzi dai Ehm Ritorniamocene indietro Perché mi sa che la roba Che vado a prendere Mi sa che non tornerà Mai 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 più indietro Ehm Questa cosa qui ragazzi Mi dispiace eh Mi dispiace veramente Ehm Così tanto perché Come detto Purtroppo Ma mi sembra una cosa strana Però eh Salve Scusi Dica Ah ok E un passaggio segreto Vabbè Comunque Vediamo un attimino Ullala Abbiamo anche questo Da recuperare Va bene Metti questo qui Questo lo lasci qui Questo qui Questo qui Questo qui Sicuramente questo va qui Questo va qui No Questo va qui E questo va qui Che bello ragazzi Che bello Bloccami Aspetta Che cos'è questo Blocca per 3000 Ma che cos'è Aspetta va Metti qua Metti qua Metti qui Sì ragazzi Per il momento Li metto Un pochettino Sparsi in giro In quanto non trovo Quello esatto Aspetta Questo va qui Questo va qua Questo qui Questo qua 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 Questo qui Questo qui Questo qui No Questo qui E questo qua E Così Sì che Aspetta Sai che ho fatto danno Questo va qua Questo va Ah ok Sì No 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 Avevo scambiato io Le due carte Ok Ok E poi dopo Ci stanno gli altri Che sicuramente Più vai avanti E più costano Salvami la partita Come sempre Va bene ragazzi Va bene Allora Vediamo Qui il cavallo è tornato Ma la roba mia Ando sta Per cavallo mio Non ce n'ha Non hai casse Ma come Ma scusate ragazzi Ma io ho quelle casse lì Dov'è che le vado a prendere Perché non è tornata la barca Dov'è che ce le ho Ve le ha vendute lui direttamente Ma non penso proprio Non penso proprio Perché Ma di una parte E fare meglio A tornare indietro Sta cippa Sta cippa Vabbè Ragazzi dai Arrivati a questo punto Io direi di concludere qui Questo nuovo episodio Della serie di Castle Flipper Mi raccomando Fatemi sapere anche la vostra Qui sotto qui Nei commenti Anzi Anzi Prima di salutarci Visto e considerato Che abbiamo un po' di soldi Direi di mettere Un po' di Cose dentro casa nostra Nel senso che Possiamo mettere Un letto da re 140 monete Lo piazzo qua A posto Ti metto questo Ti metto Un armadio Già ad esempio 140 Questo Forse non proprio davanti alla finestra Ma Più o meno A posto Apri Ah no Ok perfetto Possiamo anche Aprire e chiudere Ottimo E Uno scaffale Uno scaffale Questo qua Da 140 Tanto voglio dire Ragazzi No Di Di soldi Ne abbiamo Ora Giardino Varie Ah ecco Tappeti Altro Altro Guarda qua Almeno così Ci vediamo Qualcosina La notte Aspetta Fatemi da meglio Guarda qua Guarda questo Quanto è bellino Torcia Aspetta Guarda qua Guarda qua Che goduria Aspetta Giorno Abbiamo già dormito Credo di sì Ragazzi Facciamo più o meno Alle 7 Alle 8 Di mattina Dai Mi sveglio proprio Come se non ci fosse un domani Ok Ragazzi Allora Come detto prima Mi raccomando Lasciate like Commentate Iscrivetevi Attivate la campanellina Contribuite del video E noi ci becchiamo In un prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti